allora benvenuti a questi open days delle dell'Università di Trento in particolare benvenuti al gli open day della nostra laurea magistrale in psicologia la LM cinquantuno allora per voi che siete qui eh non è necessaria questa precisazione ma può esserlo per quelli che ci seguono da remoto ecco il la la sede di del nostro Dipartimento Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di eh di Trento appunto è eh Roveretto eh Roveretto che è eh una cittadina a una fine tredici minuti di treno diciamo eh da Trento qui eh vedete appunto delle fotografie e quindi ancora nell'area urbana di Trento e ehm e a sinistra vedete proprio il eh Palazzo Pio Marta che è la sede fisica proprio del nostro Dipartimento dove ci troviamo in questo momento ecco noi siamo collegati dall'aula Magna di Palazzo Pio Marta allora il programma è questo cioè ci sarà una breve introduzione da parte del direttore ecco qua è segnato anche il mio nome sono la delegata del Dipartimento per l'Orientamento subito dopo ci sarà la presentazione dei percorsi della laurea magistrale in psicologia i tre percorsi a cura della professoressa De Falco del professor Surianna e del professor Avanzi a quel punto e solo a quel punto ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande quindi coloro che vorranno fare le domande qui presenti in sala e anche le domande che saranno state raccolte in chat per quelli che sono da remoto o anche per voi nel momento in cui eh volete farle appunto in chat. Attenzione in questo spazio dovete fare domande solo relative ai contenuti del corso di studi eh sbocchi professionali tirocinio ulteriori step formativi cioè tutte domande a cui possono rispondere i relatori che sono i coordinatori dei tre percorsi. Non fate in questo spazio domande relative invece alle procedure di ammissione perché ci sarà poi proprio un intervento dedicato alle procedure di ammissione a cura del dottor Dell'Orco che è responsabile del dell'ufficio dell'offerta formativa e gestione studenti del polo di Roveretto. Dopo l'intervento chiaramente il dottor Dell'Orco ci sarà un ulteriore spazio di domande relate proprio a le procedure di ammissione i documenti necessari e così via. Infine termineremo con uno spazio dedicato invece le domande agli studenti orientatori. Sono presenti una studentessa e uno studente orientatore e questo sarà il momento in cui voi potete proprio fare le domande a loro. Loro sono iscritti al corso di laurea quindi possono appunto rispondervi da pari senza la mediazione del docente e raccontarvi come si trovano come si si sono trovati eh la loro opinione diciamo sul loro punto di vista sul corso di laurea e anche ad esempio sulla vita universitaria per coloro che non vivono già a Roveretto. Ecco è importante questo che perché è possibile anche prenotare dei colloqui individuali eh online o in presenza con questi studenti quindi per coloro che ci seguono da casa ecco eh se oggi non hanno la possibilità di fare domande agli studenti orientatori lo potranno fare prenotando a questo link che è riportato sotto quindi in generale potete andare sul sul sito orienta.it e da lì eh vedere come si fa a prenotare questi colloqui che potete fare lo ripeto anche online individuali ok quindi potete parlare da soli con uno studente che è iscritto al corso di laurea. Io ho eh praticamente finito e passo quindi la parola alla direttore del dipartimento il professor Vaz. Grazie grazie Barbara. Allora buongiorno a tutti e a tutte benvenute prima di tutto e benvenuti e benvenuti anche alle persone online perché vedo che 123 persone ci stanno ascoltando in vari posti eh dell'Italia chissà anche oltre. Allora io voglio tenere le cose molto breve perché tutti i dettagli verranno spiegato molto meglio dai miei colleghi. Eh ci tengo semplicemente di sottolineare un paio di cose che secondo me caratterizzano un po' di più eh la laurea magistrale in psicologia qui nel nostro dipartimento. Allora prima di tutto chi ci conosce già magari eh l'ha già l'ha già visto l'ha già vissuto sulla pelle ehm però noi proviamo a ehm creare un ambiente dove i studenti si dovrebbero trovare un po' più a casa. Non è la tipica eh studio dove i studenti fanno tutti in grandi gruppi e non hanno un rapporto diretto con eh i loro docenti. Proviamo sempre di più ad eliminare da diminuire questa esperienza e questo sicuramente in confronto alle triennali che comunque sono un numero sempre abbastanza grande. Nelle nostre magistrale la diminuiamo ulteriormente. Ci sono eh centoventi posti e poi tre percorsi vuol dire molto spesso lavorerete in tre gruppi diversi o avrete corsi in tre gruppi diversi e questo eh dà questa possibilità di effettivamente avere un rapporto eh diretto con i docenti e anche un insegnamento più diretto eh eh che in confronto magari ad altre realtà eh è meno evidente o meno probabile. L'altra cosa è che che magari è anche legato ai numeri però non solo è che noi stiamo sempre di più provando ad investire su una didattica partecipativa e innovativa. Vuol dire che i momenti sicuramente ancora di più nella magistrale in confronto alla triennale nel quale vi trovate nella situazione in cui ci troviamo adesso cioè una serie di professori qua davanti o uno solo che vi spiega eh le cose e basta. Eh proviamo sempre di più a creare situazioni in cui invece siete voi a risolvere i problemi, siete voi che venite dato una sfida e dovete trovare le soluzioni e questo eh più possibile anche in modo partecipativa eh e attiva da parte vostro. Questo sicuramente è un altro elemento al quale teniamo tanto e eh che proviamo ad applicare in tutti i nostri corsi di studio. Poi ehm noi siamo anche un dipartimento multidisciplinare, non siamo semplicemente un dipartimento di psicologia ma c'è anche questa parola di scienze cognitive dietro e questo vuol dire che ovviamente se uno sceglie di fare la laurea magistrale in psicologia avrà prevalentemente corsi in psicologia però abbiamo questa tramite questa multidisciplinarità abbiamo anche la possibilità di darvi anche delle esperienze che vanno al di là di queste conoscenze. Noi abbiamo anche ingegneri, noi abbiamo anche persone che vengono da medicina, abbiamo persone che vengono dalla sociologia, dalla pedagogia, dalla filosofia. Tutte queste persone lavorano in questo eh dipartimento e sicuramente vuol dire che quando andate a fare le vostre scelte di corse a scelta eh potete veramente andare a prendere anche corsi senza andare troppo lontano, senza dover uscire anche da rovereto ehm che possono esattamente fornire anche queste competenze qua e anche questo secondo me è un elemento che può arricchire una classica laurea magistrale. Poi come ultimo punto se mi lasciate ancora questi cinque minuti è che eh le persone che si iscriveranno l'anno prossimo in qualche modo saranno dei pionieri no? Perché come sappiate la laurea magistrale in psicologia è diventato professionalizzante che una parte è una cosa eh bellissima perché vuol dire che voi potete raccogliere l'abilitazione e la possibilità di esercitare la professione in un tempo record che prima era impossibile no? Eh normalmente dopo la laurea magistrale si doveva fare il tirocinio eh professionalizzante eh che tipicamente durava un anno e poi fare un esame di stato prima di ottenerlo. Adesso ci è stato chiesto ed è stata una sfida non eh da poco di provare a ripensare l'intero percorso eh e di mettere tutte queste capacità e competenze in un tempo molto minore e io devo dire l'abbiamo penso possiamo dire abbiamo lavorato tanto abbiamo lavorato bene e che io sono molto contento del risultato che eh eh abbiamo raggiunto qui nel dipartimento. Prima di tutto noi abbiamo non solo trovati i crediti che servivano per aumentare i crediti per il tirocinio un po' qui e là magari no facendo magari giochi di dai andiamo a prenderli lì diminuiamo un po' della tesi per esempio ma alla fine la tesi rimane la tesi eh no? Cioè si potrebbero diminuire i crediti lì per poi aumentarli del tirocinio. No noi invece abbiamo proprio ripensato l'intero percorso formativo eh se uno fa il confronto tra quello che erano i tre percorsi qui eh prima e adesso si vedrà che abbiamo provato a caratterizzarli ancora più. Neuroscienze farà neuroscienze chi fa clinica farà clinica chi farà lavoro farà lavoro. Prima magari le sovrapposizioni erano un po' più ehm un po' più grande e li abbiamo provato ad eliminare. Abbiamo anche ridotto il numero di crediti nel quale vi verrà chiesto di stare in in aula perché abbiamo riconosciuto che adesso dovendo fare venti crediti di tirocinio non più dieci come prima ovviamente dovete anche avere il tempo per poterlo fare che vi permette più possibile anche se non sarà facile per nessuno neanche eh per tanti dei studenti di provare effettivamente a fare il tutto nei due anni della laurea magistrale e di non eh dover prolungare il percorso. E poi però abbiamo anche provato a continuare a dare la eh una certa importanza alla ricerca. Noi penso che possiamo dire eh è un po' questi due eh insomma eh come si dicono cose di a loro no non mi viene la parola eh lo 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 dimostrano siamo un dipartimento di eccellenza che viene solo dato a questi dipartimenti che dimostrano e continuano a dimostrare di avere una eh livello di ricerca di primo livello e livello anche confrontabile a livello internazionale e così via. Avendo questa capacità noi non abbiamo voluto fare a meno di eh comunque dare un'importanza anche a queste competenze qua. Non sarà solo una laurea magistrale professionalizzante che vi permette di esercitare la eh professione di di psicologo ma vi posso garantire che l'enfasi su darvi i mezzi metodologici e e anche magari la possibilità di scegliere comunque un percorso anche eh più accademico sono eh cose che noi abbiamo avuto sempre in mente quando abbiamo ridisegnato questo corso di studio. Allora io sono molto contento del risultato mi auguro che può convincere anche tanti di voi di iscriversi qui da noi e lascio a questo momento eh piacere ai miei colleghi di darvi più i dettagli e presentare questi eh corsi di studio e questi percorsi più nel dettaglio. grazie a voi grazie per l'attenzione e buona pomeriggio. Ecco va bene. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie mille. Introduco adesso il eh professore Avanzi che comincerà a andare nel vivo eh della della questione insomma con la presentazione proprio del corso di laurea magistrale in psicologia. Grazie grazie Barbara grazie a tutti di essere qui. Allora buongiorno e benvenuti e benvenute. Eh io eh vi parlerò in qualità diciamo di responsabile del eh corso di laurea magistrale e anche di coordinatore di uno dei tre percorsi. Di cosa eh vi parlerò e vi parleremo insieme ai miei colleghi. Intanto del passaggio che ha già accennato il direttore cioè la laurea magistrale in psicologia passa da laurea a laurea abilitante cerchiamo è stato già detto cercheremo di capire meglio cosa significa. Poi eh vi dirò come è strutturata, come sarà strutturata la nuova laurea magistrale in psicologia e poi nell'ultima parte affronteremo e descriveremo eh i tre diversi percorsi che la caratterizzano. È scomodissimo qui. Allora per cui con la legge dell'otto novembre del duemila e ventuno la nostra laurea è diventata laurea abilitante. Cosa significa? Che l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale contemporaneamente abiliterà anche a esercitare la professione di psicologo. E non è la stessa cosa. Eh qui vedete il vecchio ordinamento cioè i vostri eh colleghi che eh terminano il loro percorso di studi col vecchio ordinamento. Come vedete voi siete qui dove dice il pallino eh rosso. Ok? State per decidere se iscrivervi e in quale eh corso di laurea iscrivervi. Nel vecchio ordinamento avevate la possibilità di iscrivervi in una laurea magistrale biennale di psicologia dopo della quale eravate laureati in psicologia. Esattamente come un laureato in giurisprudenza non è ancora avvocato. Analogamente voi per diventare psicologi e psicologhe dovevate fare tutto un percorso successivo. C'è un anno di tirocinio post lauream obbligatorio. L'esame di stato che prevedevano diverse prove e durava qualche mese in tutto. Superando l'esame di stato eravate abilitate l'esercizio della professione e potevate iscrivervi per cui all'albo professionale. Con Ma se usassi questo. Forse meglio. Con il nuovo ordinamento come vedete voi vi iscriverete a una laurea magistrale sempre biennale terminando la quale vi potete già iscrivere all'albo professionale. Cioè non siete solo dei laureati o delle laureate e siete abilitati all'esercizio della professione. Questo è il cambiamento deciso eh dal ministero eh ed è un cambiamento come eh vedete particolarmente importante. Eh la legge prescrive che eh le ore di tirocinio pratico che d'ora in poi si chiameranno tirocinio pratico valutativo sono sigle alle quali bisogna che ci abituiamo tpv di un eh laureato e di uno psicologo o una psicologa debba essere di trenta CFU. In particolar modo nella laurea magistrale che eh frequenterete dovrete fare venti CFU l'equivalente di cinquecento ore di tirocinio pratico valutativo al termine del quale farete potete iscrivere per la prova pratica valutativa che sostituisce lo vedremo fra un attimo eh il vecchio esami di stato. Ok. Adesso parliamo della struttura della nuova laurea magistrale. Alcune cose sono rimaste altre hanno subito come ha già detto Ierun degli importanti cambiamenti. Allora la laurea magistrale in psicologia si articola sempre in tre percorsi. Ok. Che hanno lo scopo di approfondire e di fornire conoscenze e competenze di base specialistiche in tre diversi ambiti della psicologia. Nota bene voi otterrete una laurea in psicologia non in psicologia clinica o in neuroscienze in psicologia. Ok. Però ovviamente un percorso vi faciliterà l'accesso al mondo del del lavoro o della ricerca più facilmente in un ambito che non in un altro. Questi tre percorsi appunto sono psicologia clinica, neuroscienze e psicologia del lavoro e delle organizzazioni. La nuova laurea magistrale sarà divisa sempre appunto in due anni, quattro semestri per cui di questi i primi tre semestri per cui il primo, il secondo semestre del primo anno e il primo semestre del secondo anno saranno dedicati per lo più ai corsi e gli insegnamenti. Il secondo semestre del secondo anno invece sarà di fatto dedicato più o meno interamente al tirocinio pratico valutativo e poi alla stesura della tesi eccetera. Però non ci saranno corsi nel secondo semestre del secondo anno. Ok. Questo è un primo cambiamento importante. Questa è la struttura dei crediti, dei CFU, crediti formativi universitari che riguardano la nostra laurea magistrale. Ogni laurea magistrale deve arrivare a centoventi CFU totali. Per noi sono suddivisi in questo modo. Per noi significa per la laurea magistrale indipendentemente dal percorso scelto. Dovrete seguire, avrete al libretto settantacinque CFU di corsi obbligatori che saranno diverse ovviamente a seconda del percorso scelto. Tre CFU di conoscenze linguistiche. Otto per i corsi a scelta libera. Adesso approfondiremo un attimo questi ultimi aspetti. Venti, come vi ho detto, per il tirocinio pratico valutativo e quattordici sono aumentati peraltro rispetto a come era prima per l'esame finale. Allora facciamo un attimo un approfondimento di CFU a scelta libera, che sono otto come abbiamo detto. A cosa servono i CFU a scelta libera? A personalizzare la propria formazione. Per cui ogni studente può decidere con questi crediti di investire in ambiti che o non sono presenti nella propria offerta formativa o comunque che diciamo preferisce seguire quelli gli possono aiutare a specializzarsi in un aspetto. Il nostro corso di laurea offre un certo numero, tredici mi sembra, o insegnamenti a scelta libera di quattro CFU ciascuno, quasi tutti da quattro a parte uno. Oltre agli insegnamenti a scelta libera offerti dal nostro dipartimento, dal nostro corso di laurea, voi potete seguire anche i seminari di credito, seminari di credito che sono stati introdotti da qualche anno, non mi ricordo bene da quando, comunque hanno un taglio molto partecipativo, come già diceva, didattica partecipativa, come già diceva Ieruna. Sono seminariali, di solito vengono fatti nel weekend con attività pratiche e laboratoriali. da uno o due CFU. Per quello che riguarda invece insegnamenti a scelta libera, sono erogati in italiano, ma ce ne sono alcuni anche in inglese, se qualora qualcuno volesse diciamo fortificare le competenze linguistiche. Almeno due di questi corsi che eroghiamo noi, noi come dipartimento, sono affini alle aree tematiche dei percorsi. Per cui se qualcuno sceglierà psicologia clinica, almeno due corsi a scelta libera saranno di questa area tematica. Se farà lavoro, analogamente. Ovviamente uno è libero, anzi ha senso anche esplorare altri ambiti, però almeno diciamo c'è questa possibilità. Inoltre, nota bene, non irrilevante, uno studente può anche decidere di seguire un corso a scelta libera di un altro dipartimento, un altro corso di laurea del nostro Teneo. Ok, tirocinio pratico valutativo che è sicuramente uno degli aspetti più importanti della riforma universitaria. Sono 20 CFU, l'equivalente di 500 ore. Come può essere seguito? In due modalità. La prima modalità implica che lo svolgere tutti gli eventi CFU esternamente, in un ente o in più enti, organizzazioni accreditate con il nostro Teneo. Per cui accreditate significa che ci deve essere una convinzione, una convenzione, significa che deve essere presente uno psicologo iscritto all'albo da almeno tre anni che sia disponibile a farvi da tutor. Questa è la prima modalità. La seconda modalità, invece, si può separare il tirocinio pratico valutativo. almeno 14 CFU per legge devono essere svolti esattamente come prima, e cioè in realtà esterne enti, consultori, aziende. Gli altri sei possono essere svolti all'interno di strutture, di laboratori, di progetti anche di ricerca presenti nel nostro dipartimento. Ok, queste sono le due possibilità a vostra disposizione per realizzare i 20 CFU di tirocinio pratico valutativo. Un'altra modifica importante ha a che fare con l'esame finale, la laurea. In questo senso ci sono due prove da fare, da sostenere. Prima la prova pratica valutativa, PPV, e successivamente la prova finale. La prova pratica valutativa sostituisce, come abbiamo detto, l'esame di Stato e sarà un colloquio orale in cui parlerete del tirocinio, della vostra esperienza, parlerete, verrete valutati su questo e sugli aspetti deontologici, eccetera. Il superamento di questa prova pratica valutativa è una condizione necessaria per poter accedere alla prova finale. Per cui solo chi otterrà un giudizio di idoneità in questa prova pratica valutativa potrà laurearsi, cioè discutere la propria tesi di laurea. La prova finale consiste nella discussione, come era anche prima, di una tesi di laurea. Ok? Ecco, questa per quello che riguarda la struttura, diciamo, più generale e comune, sempre su questi aspetti comuni ai tutti e tre i percorsi. Sottolino tre aspetti, in parte li ha già detti il direttore. Conoscenza della lingua, avrete tre crediti di lingua inglese per uscire con un livello almeno B2 dall'università. Peraltro c'è la possibilità di partecipare a progetti Erasmus, tesi all'estero, cioè ci sono tante occasioni per poter rafforzare le competenze linguistiche e anche non solo quelle dell'inglese. Il secondo aspetto che sottolineo già detto è la didattica partecipativa, cioè durante tanti corsi, insegnamenti erogati nella nostra laurea magistrale prevedono ad esempio attività di gruppo. Lì vedete aule partecipative, ci sono delle aule dedicate, il cui design stesso è stato realizzato proprio per agevolare i lavori di gruppo. L'idea e la sfida è quello di impegnarsi nel fare qualcosa per comprendere, per capire meglio ciò che si sta studiando. E poi i gruppi, le dinamiche di gruppo, i ruoli, le norme di un gruppo, sono tutti elementi che sono competenze trasversali per tutti gli altri. Per noi psicologi forse sono anche competenze sostanziali, dopo dipenderà dal tipo di lavoro che andrete a fare, ma sono aspetti poi molto importanti anche del lavoro. Da ultimo esiste un percorso d'eccellenza riservato diciamo agli studenti e le studentesse più meritevoli in tutti e tre i percorsi al quale si può accedere e poter seguire un po' più da vicino i laboratori di ricerca, realizzare un proprio progetto di ricerca o partecipare a progetti già attivi, partecipare a convegni eccetera. Anche questa è una bella occasione. Spesso gli studenti che partecipano a questa iniziativa sono particolarmente soddisfatti. Ok, abbiamo finito, ho finito la parte generale di descrizione. Prima di entrare nel merito del percorso di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, due parole sulla valutazione complessiva se volete del nostro corso di laurea. Sottolineo alcuni aspetti, uno l'ha già detto anche Ierun, cioè siamo una realtà abbastanza piccola e per cui vi è un rapporto di un docente ogni 18 studenti. Anche questo è un aspetto molto valorizzato dei vostri colleghi. C'è la possibilità di appunto entrare in rapporto in maniera più agevole con i docenti. Un altro elemento che ci sembra opportuno ricordare è che l'ottanta per cento degli studenti si laurea in corso. Uno può anche non essere così preciso, però normalmente c'è un'associazione fra laurearsi fuori corso e gli abbandoni, per cui è anche importante che ci sia questo dato. Altri due elementi che ci piace ricordare, il 95 per cento degli dei laureati si dichiara soddisfatto del corso seguito, della laurea magistrale in psicologia e a tre anni dalla laurea quasi il 90 per cento dei vostri colleghi è occupato. Anche questi sono tutti e tre, questi ultimi tre dati, se non mi ricordo male, un po' superiori, alcuni forse un po' di più che poco, alla media nazionale. Allora adesso chi si loda si imbroda dice il proverbio, però è per dire che funziona abbastanza bene questo corso di laurea. un'ultima slide su questo aspetto, ha parlato ieri sull'aspetto della ricerca, anche dal punto di vista della didattica, come vedete questa è la classifica del Censis, prendiamola giustamente con le molle come ogni classifica, però insomma il nostro corso di laurea magistrale in psicologia si è collocato, come vedete piuttosto bene anche l'anno scorso. Ok, in qualità adesso di coordinatore vi introduco brevemente, vi dico due cose sul percorso di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. quali sono gli obiettivi formativi di questo corso? Rafforzare le conoscenze e le competenze, sia di base che specialistiche, necessarie per gestire le risorse umane in contesti di lavoro complessi, in contesti organizzativi complessi, sia nel mondo del pubblico amministrazione, sia nel privato. Anche nel nostro percorso c'è un'enfasi, un'attenzione già ricordata da Ierun sugli aspetti della ricerca, per cui ci saranno diverse esperienze, diversi corsi focalizzati sull'acquisizione di tecniche e strumenti per l'analisi dei dati e disegni di ricerca ad un lato, ma anche per acquisire strumenti di valutazione, di selezione, di orientamento scolastico professionale e anche per l'implementazione di progetti di intervento. Come già vi accennavo è importante per gli psicologi conoscere i gruppi, sicuramente per lo psicologo del lavoro è importante, è una competenza fra quelle più importanti, per cui anche qui uno degli altri obiettivi è quello di esplorare proprio le dinamiche, i rapporti individuo, gruppo e fra gruppi. E infine acquisire competenze per progettare interventi sul singolo, sul lavoratore, sui gruppi e sulle organizzazioni e valutarne l'efficacia. Cosa si studia? Adesso vi farò vedere prima gli esami obbligatori, i 75 CFU, i corsi obbligatori che vi ho fatto vedere in una slide precedente. Questi sono i corsi del primo anno, per cui fondamenti di ergonomia cognitiva per il benessere organizzativo, il tema del benessere vedete un tema molto esplorato anche con gli esami a scelta libera, almeno per quello che riguarda il nostro percorso. Tecniche psicometiche, analisi dei dati, 9 CFU. Forte importanza è data l'analisi dei dati, almeno nel nostro settore, ma direi non solo, perché con i dati lo psicologo del lavoro deve saper gestire, maneggiare, comprendere. Processi psicosociali nelle organizzazioni, il tema dei gruppi. I tre corsi che vedete dopo, tecniche di selezione e valutazione del personale, psicologia per la gestione dei risorsi umani e psicologia delle organizzazioni, sono i tre corsi maggiormente caratterizzanti ovviamente della psicologia del lavoro, insieme al quarto che vedremo adesso nel secondo anno. Teste colloquio clinico, ci si laura in una laurea psicologia che è all'interno delle professioni sanitarie ed è importante anche per chi fa lavoro, ci sono tanti temi che si sovrappongono, il benessere e lo stress lavoro correlato, per cui un esame di test e colloquio clinico torna utile anche a chi deciderà poi di fare questo percorso. Poi come vedete elementi di diritto e organizzazione aziendale che invece sarà nel secondo anno, noi lavoriamo con le organizzazioni complesse, prima di lavorarci bisogna che conosciamo come sono fatte nella loro organizzazione e nelle regole che le riguardano. Psicologia della formazione e dell'orientamento è l'altro grande corso caratterizzante alla psicologia del lavoro e infine come vedete etica della ricerca di ontologia professionale. È in rosso perché è l'unico esame presente in tutti e tre i percorsi, diciamo come scelta del dipartimento era così già anche prima di diventare laurea abilitante, a maggior ragione oggi che abilitiamo all'esercizio della professione diventa ancora più importante. E questi sono i corsi primo anno, secondo anno, primo semestre del obbligatori. Poi ci sono i corsi a scelta dello studente, io qua vi ho messo solo due che diciamo sono quelli più di aria tematica come vi dicevo, cioè tecniche di valutazione dell'ergonomia cognitiva per il benessere e il laboratorio di progettazione e valutazione di interventi sempre per il benessere organizzativo. Ripeto, sono solo due esempi, poi uno nei corsi scelta libera seleziona proprio quello che maggiormente gli interessa. Finiamo con gli sbocchi occupazionali e professionali. Cosa fa lo psicologo del lavoro? Allora di nuovo nota bene la laurea in psicologia, potrete fare tante altre cose anche in ambito clinico, neuropsicologico, però lo sbocco più coerente per chi segue questo percorso sono questi. O si lavora come libro professionista o da soli o in studi associati si fa consulenza alle aziende, agli enti e alle organizzazioni su i temi più disparati dalla valutazione dello stress lavoro correlato a reclutamento selezione, al cancelling di carriera eccetera. Oppure si lavora come addetti o anche responsabile a un certo momento della carriera del reparto risorse umane all'interno di aziende o di enti pubblici e per cui si vedranno un po' gli stessi temi ma dal di dentro della stessa organizzazione. Oppure conseguendo si può accedere al dottorato di ricerca e proseguire nella carriera accademica. Questi sono i tre sbocchi principali. Per quello che riguarda i temi era impossibile fare un elenco esaustivo. Io qua ne ho messi solo alcuni ma ero indeciso se metterlo o meno perché rischia di essere fuorviante. Ho messo alcuni forse fra quelli più noti o quelli anche che magari riguardano il primo sbocco professionale ma lo psicologo del lavoro si occupa di reclutamento e selezione del personale, si occupa di orientamento scolastico o professionale o formazione, cancelling di carriera, tutti i temi legati al benessere lavorativo organizzativo dalla valutazione di stress lavoro correlato, il diversity management eccetera eccetera eccetera. Sono veramente tanti i campi in cui ci si può impiegare. Ecco qui vi ho messo solo alcuni esempi, parole chiave diciamo per aiutarvi a orientarvi. Io direi se non ricordo male ho finito. Passo adesso la parola a Luca Surian il mio collega coordinatore di neuroscienze. Buongiorno a tutti e a tutte. Qui abbiamo il percorso di neuroscienze che si inserisce in una storia che quella di Rovereto che è nata proprio come facoltà di scienze cognitive e al centro ha avuto appunto gli studi dell'architettura cognitiva e delle sue basi neurali e gli obiettivi del nostro percorso è quello di approfondire innanzitutto lo studio del funzionamento tipico della mente e indagare le basi neurali quindi come il cervello genera le competenze mentali e come anche le competenze mentali e le attività mentali influenzano l'organizzazione dei circuiti neurali. Poi sarà molto importante approfondire l'aspetto metodologico quindi come si innanzitutto conduce una ricerca in neuroscienze, in neuropsicologia cognitiva e discipline affini e poi c'è una parte importante che riguarda l'acquisizione di abilità necessarie alla professione clinica di neuropsicologo clinico che riguarda sia diciamo così le patologie in età adulta quindi disturbi acquisiti sia patologie degenerative del sistema nervoso negli anziani oppure patologie diciamo che si osservano in età evolutiva i disturbi di neurosviluppo. Ecco ripetendo una cosa che voi avete già sentito dal nostro direttore qui volevo sottolineare di nuovo che le lezioni sono tutte svolte in modo che ci sia una forte interazione partecipazione attiva da parte degli studenti e non siano solo le lezioni frontali classiche insomma. Cosa ci aspettiamo dal corso? Allora fondamentale è questo ottenere delle competenze necessarie per riflettere sulle basi funzionali e delle competenze mentali e sul loro sviluppo. Le conoscenze sono rivolte sia allo studio del cervello neurotipico sia abbiamo detto a sistemi danneggiati che si sviluppano in modo atipico. C'è la possibilità di svilupparle e queste competenze in vario modo per esempio attraverso anche tirocini applicati applicativi stage e attività diciamo svolta non solo dentro il dipartimento ma anche all'interno di strutture pubbliche che quotidianamente si trovano appunto a prendere in carico pazienti neuropsicologici. Bene. Quali corsi troviamo in questo percorso? Primo anno abbiamo corsi fondamentali di neuroscienze cognitive, neuropsicologia e neurologia clinica. Abbiamo corsi dedicate alla metodologia nelle neuroscienze, applicazioni neuroscienze e sviluppo neurocognitivo tipico atipico. Secondo anno e poi ci sono dei laboratori importanti che riguardano i testi neuropsicologiche e le tecniche psicometriche di base per diciamo l'approfondimento di come vengono elaborati i dati per la ricerca in neuroscienze. Nel secondo anno ci sono molti meno corsi abbiamo detto perché riguardano soltanto il primo semestre, qui abbiamo patologie degenerative del sistema nervoso, gli ambiti di intervento nella neuropsicologia e come avete visto già da quello che ci ha detto il professor Avanzi abbiamo l'esame di etica della ricerca e della deontologia professionale. Poi abbiamo dei corsi a scelta, ne ho elencati solo alcuni disponibili, uno dedicato alla neuroetica, quindi le basi neurali del ragionamento etico e riabilitazione neurocognitiva dedicato appunto agli interventi neuro-riabilitativi e abbiamo la clinica dei disturbi cognitivi e comportamentali per le malattie degenerative, quindi più rivolte quindi ai aspetti degli anziani in particolare. Ecco, quali sono gli sbocchi professionali per questo percorso? Allora sono fondamentalmente due, quello in ambito diciamo clinico sia a livello di istituzioni pubbliche sia a livello professionale privato e quello della ricerca, quindi la carriera accademica in Italia, la ricerca si fa quasi esclusivamente qui in accademia, quindi ho messo accademica e naturalmente c'è qualche altro istituto non universitario che fa ricerca ma sono molto rari. Ecco, per quanto riguarda il primo sbocco, voi imparerete quindi a fare le diagnosi per i disturbi neuropsicologici, fare anche le perizie che sono molto importanti in ambito forense insomma, poi attività di consulenza, pianificare e monitorare l'efficacia degli interventi riabilitativi e anche proporre piani di prevenzione dei disturbi. Per quanto riguarda la ricerca sperimentale, la cosa più importante naturalmente è quello di imparare a ragionare sui problemi, quindi come diceva Einstein, ci sono forse peccanismi che possono quasi automaticamente generare delle ricerche ma non automaticamente scegliere delle buone domande di ricerche, lì ci vuole effettivamente una persona che ha un modo originale e profondo di affrontare i problemi scientifici. Ecco, quindi primo punto quello di individuare le ipotesi fondamentali da mettere alla prova, poi generare tutta la parte metodologica che riguarda la scelta dei campioni e la scelta del materiale, delle procedure da seguire e l'analisi dei dati e infine imparare anche a scrivere i rapporti di ricerca. Naturalmente per fare questo non basterà naturalmente la laurea magistrale, sarà necessario accedere a un dottorato di ricerca che però penso che sia una prospettiva molto probabile, ecco appunto resa molto probabile proprio da una buona formazione nel nostro percorso di neuroscienze. Grazie e passo la parola adesso alla professoressa De Falco che vi parla dell'ultimo percorso, quello di clinica. Buon pomeriggio e dunque allora vi parlerò appunto del percorso di psicologia clinica. Eccoci, allora il percorso di psicologia clinica si adatta particolarmente a chi ha un interesse specifico per comprendere quali sono le radici del benessere psicologico e del disagio psichico e per chi ha una motivazione a lavorare con gli altri per promuovere il benessere psicologico e per supportare gli altri nella loro riesilienza o nel cambiamento in situazioni di disagio o di disturbo psichico. Gli obiettivi del percorso sono infatti quello di rafforzare le conoscenze sui modelli esplicativi del benessere psicologico, del disagio e dei disturbi psichici in tutto il ciclo di vita, quindi dalla primissima infanzia al fine vita e anche quello di far acquisire le competenze metodologiche più avanzate a livello psicodiagnostico o comunque di valutazione di assessment delle funzioni psicologiche. Infine un obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del panorama degli interventi psicologici. In questo percorso non viene adottato un unico paradigma di comprensione del disagio o delle modalità di intervento ma piuttosto si favorisce un confronto critico tra paradigmi in un'ottica multi approccio integrata con le neuroscienze cognitive. Certamente trovano più spazio quei paradigmi come quello biopsicosociale o quello della developmental psychopathology che riconducono il benessere e il disagio psicologico all'interazione tra fattori molteplici di origine sia biologica che socioambientale. Dunque chi si iscrive a questo percorso eh ha la possibilità di eh approfondire in particolar modo le conoscenze e le competenze sui tre cardini della psicologia clinica che sono la diagnosi eh la prevenzione e l'intervento eh appunto mh nei nei riguardi del dei disturbi psichici conclamati quelli classificati ma anche più in generale del disagio psichico sia a livello dell'individuo che della famiglia che del gruppo e eh chi si iscrive ehm ha eh la possibilità di acquisire degli strumenti eh metodologici specifici dell'ambito clinico che riguardano l'analisi della domanda e quindi gli strumenti che servono per comprendere i bisogni specifici eh degli degli utenti eh e quindi tutto ciò che riguarda la valutazione psicodiagnostica test colloquio clinico interviste eh osservazione del comportamento ma anche gli strumenti per eh scegliere e pianificare gli interventi e per valutarne l'efficacia e per raggiungere questi obiettivi abbiamo selezionato una serie di insegnamenti appunto riconducibile tre macro obiettivi che vi ho presentato quindi abbiamo una serie di insegnamenti che riguardano la comprensione dei disturbi o della del disagio eh come disturbi psichici e comportamentali in adolescenti e giovani adulti eh neuroscienze affettive cliniche e poi al secondo anno psicopatologia clinica poi una serie di insegnamenti che invece riguardano l'aspetto metodologico e quindi metodi di indagine in psicologia clinica laboratorio per l'applicazione di test psicologici e valutazione neuropsicologica eh poi abbiamo insegnamenti sull'intervento counseling e psicoterapia prima di tutto poi ambiti di intervento eh nella psicologia e poi chiaramente eh l'area dell'etica e della deontologia professionale e infine abbiamo degli insegnamenti psicologici che aiutano a eh vedere il benessere e il disagio in una prospettiva evolutiva eh e quindi ricondurla alle varie fasi del ciclo di vita psicologia lo sviluppo emotivo e psicologia eh e sviluppo tipico e tipico che attraverso una scelta vincolata può essere seguito in italiano oppure in lingua inglese come occasione in più per eh esercitare quella competenza trasversale importante di cui avevamo parlato eh che riguarda e patroneggiare la la lingua inglese. Eh il prossimo anno come esami a scelta più legati al percorso di clinica eh troviamo ehm ad esempio un corso sui disturbi alimentari e cognizione e sulla psicobiologia dello stress oppure clinica dei disturbi cognitivi e comportamentali nelle malattie degenerative cerebrali. Eh però come si è detto questi ehm voi avete otto crediti eh a scelta libera eh e possono essere utilizzati sia appunto per cercare di specializzarsi ancora di più sul focus di interesse del percorso ma anche invece magari per allontanarsi e ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e competenze eh sempre in ambito psicologico. Eh due parole sulle strategie di apprendimento ancora avete sentito in tutti i nostri percorsi comunque si insiste su una modalità eh di eh insegnamento ed apprendimento che sia attivo e partecipativo. In particolare per il percorso di psicologia clinica lo riteniamo davvero importante soprattutto adesso che la laurea diventa abilitante ci sembra indispensabile che l'apprendimento avvenga avvenga affrontando dei problemi reali e quindi eh cercando di mettere in pratica cioè di utilizzare gli strumenti della psicologia di eh esercitarsi sui protocolli di intervento attraverso delle simulazioni, delle role play, l'analisi di casi clinici eh e poi attraverso tutto quello che è il lavoro in gruppo esercitare anche eh delle eh competenze trasversali che per lo psicologo o la psicologa che lavora in ambito clinico eh riteniamo fondamentali le capacità comunicative sia di espressione che in ricezione anche empatica eh della comunicazione altrui e poi la cooperazione in gruppo perché lo psicologo che lavora in ambito clinico praticamente sempre lavora eh con nell'ambito di un'equip e quindi ci ricolleghiamo agli sbocchi professionali eh ripeto ancora una volta anche l'indirizzo il percorso di psicologia clinica eh diciamo eh è in realtà all'interno di una laurea in psicologia che quindi abilita a diversi sbocchi professionali però è chiaro che prepara in modo particolare alcune eh applicazioni in alcuni in alcuni campi lavorativi e sicuramente quella dello psicologo o della psicologa clinica eh che può lavorare sia in ambito pubblico quindi nelle aziende sanitarie o in ambito privato come libero professionista e eh lo psicologo ehm eh abilitato e scritto all'albo può eh lavorare nell'ambito della diagnosi nell'ambito della consulenza nell'ambito del supporto nell'ambito della riabilitazione e nell'ambito della prevenzione. Eh poi ehm questo percorso eh forma anche mh a quelli eh quelle forme di lavoro dello psicologo in contesti multidisciplinari che hanno forti implicazioni psicologiche come il contesto socio sanitario o il contesto educativo scolastico e eh lavora in questi eh in questi ambiti promuovendo appunto la salute e il benessere psicologico prendendo in carico le implicazioni psicologiche di altre forme diciamo di eh servizi o interventi. Eh un altro naturale sbocco di chi eh sceglie un percorso di psicologia clinica è quello della terzo livello di formazione per diventare psicoterapeuti e psicoterapeute eh perché appunto per essere iscritto all'albo degli psicoterapeuti e delle psicoterapeute è necessario ancora un ulteriore passaggio formativo la scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapie e in psicoterapia ne esistono moltissime eh private e eh ne esistono anche di pubbliche e sono necessari appunto per esercitare quella che è la cura eh in ambito eh psicologico. Eh e il percorso come eh gli altri prepara anche a eh lavorare nell'ambito della ricerca una ricerca eh di tipo appunto psicologico clinico quindi eh prepara eh gli fornisce gli strumenti per fare ricerca su eh gli strumenti diagnostici sui protocolli di intervento di valutazione appunto dell'efficacia eh o direttamente quindi iniziando a lavorare nei contesti di cui vi parlavo prima socio sanitario educativo scolastico oppure mirando una carriera invece in ambito accademico passando per il terzo livello di formazione in questo caso sulla ricerca che eh è il dottorato di ricerca. Ecco tante tante cose da fare in due anni per tutti per tutti i percorsi e però insomma eh l'impegno è massimo in termini di qualità.